Oggi, nei reparti dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, ci accoglie la Befana. Non una qualsiasi, ma la Befana che viene dal mare. La Befana viene dal mare con dei dolci da portare, da portare ai bambini. Dal 2005 il Porto dei Piccoli è in prima linea per portare mare, gioco e cultura nelle corsie degli ospedali, a scuola e a domicilio, attraverso un team di professionisti formati in campo psicopedagogico, scientifico e artistico, che assistono i piccoli pazienti e i loro familiari. Oggi, con la nostra Befana, proponiamo laboratori creativo-teatrali, dove i bambini sono i veri protagonisti. Comporranno con noi una favola interattiva originale, creeranno un porta-caramelle con simpatici animali marini e, utilizzando strumenti a percussione, canteranno e suoneranno una filastrocca creata per l'occasione. Tutto ciò è reso possibile dai nostri sostenitori, che in occasione delle festività si sono confermati come sempre generosi, permettendoci di donare dolci, giochi e attività ai piccoli pazienti, per trasformare un normale giorno di ricovero in ospedale in un giorno speciale. Grazie